Nel Vangelo di questa ventinoesima Domenica del Tempo Ordinario, noi ascoltiamo questo annunzio della forma di essere di Cristo. Il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire, dare la propria vita in riscatto per molti. Questa frase così importante, che illumina il senso della vita di Cristo e l'assenso della vita di tutti noi. Noi siamo nati tutti per far felici gli altri, per dare servizio, per dare amore. Se non siamo al servizio, se non c'è qualcuno che è felice a causa nostra, la nostra vita non ha nessun senso, non ha nessuna consistenza. Noi siamo, infatti, contenti quando ci sentiamo utili, quando una persona sente di non aver rilevanza, di non essere importante per nessuno, soffre, soffre tanto. E allora noi vediamo questa frase così bella, detta dal Signore Gesù, è tanto illuminante, però è al termine di un processo. Un processo che è questa strana educazione che deve mettere in atto Gesù rispetto a una cosa. Si avvicinano, Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, e chiedono qualcosa. Loro hanno un desiderio. Gesù dice, ma che desiderio volete? Volete che io compia? Cosa volete che io faccia per voi? Dacci di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. È interessante che Gesù non risponde con un diniego sprezzante. Questi due discepoli hanno chiesto la gloria, di avere importanza, di essere importanti. Guardiamo bene questo desiderio. Il desiderio della grandezza, dell'importanza, della rilevanza. Gesù non dice che brutta cosa che mi state chiedendo. No, va a cercare dentro quel desiderio storto la sua matrice buona. Perché dietro ogni desiderio umano, anche i più turpi, i più schifosi, i più indicibili, in fondo ci sarebbe il desiderio della vita, il desiderio della bellezza. Il desiderio umano avrebbe sempre dietro una parte sana, piccolissima magari, ma quella è la parte da non perdere. E infatti Gesù dice voi non sapete quello che chiedete, cioè non avete coscienza di quel che è nascosto nella vostra domanda. Inizia a condurli. Potete bere il calice che io bevo, cioè avere la mia sorte, vivere quel che vivo io. Volete la mia gloria, volete essere seduti, uno alla destra, uno alla mia sinistra, cioè volete essere associati con me nel trionfo. Bene, allora potete bere quel che io bevo, assumere ciò che io sto assumendo e potete immergervi, esservi battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato, cioè andare per la mia strada, entrare lì dove io entrerò, buttarmi dentro quel che io accoglierò? E questi rispondono lo possiamo. E cioè questa presunzione non del tutto sbagliata dell'uomo di poter seguire Gesù Cristo. È vero, lo possiamo seguire Gesù Cristo, ma non come pensiamo noi. Noi non sappiamo che domandiamo, però è vero che c'è qualcosa che domandiamo che è giusto. Gesù sta salvando la loro domanda, educandola, come si dice oggi, purificandola e la fa passare per la relazione con lui, entrare nelle sue cose, bere quello che lui beve, immergersi in quello in cui lui si battezza. E dice loro, sì, voi berrete il mio calice e sarete battezzati nel mio battesimo. È la chiamata di ogni cristiano. Noi tante volte riceviamo nella realtà la condizione della vita cristiana attraverso tante cose che possono succedere, magari amare, magari sgradevoli. Eppure in quel momento, senza essercene resi conto, siamo arrivati al calice di Cristo, siamo arrivati al battesimo di Cristo. Speriamo sempre tutti di essere pronti in quel momento lì. Giovanni e Giacomo saranno pronti, al momento giusto avranno ricevuto tutto quel che dovevano ricevere. Infatti si parla di un futuro. Voi berrete ciò che io bevo. Ci arriveremo, camminiamo per quello. Però alla mia destra e alla mia sinistra si siedono quelli per i quali è stato preparato. Non si tratta di fare favoritismi. Non è che ve lo concedo, ve lo do, non ve lo do. Ma noi siamo preparati per diventare che cosa? Una comunione. Ognuno al proprio posto. E lì saremo felici. Noi saremo felici quando ci lasceremo condurre là dove Dio ci vuole condurre. Ed è quello che manca in quella domanda. Quella è la parte di cui loro sono consapevoli ma non si rendono conto quanto è brutta. Stanno chiedendo di avere una parte. La scelgono loro. No, la sceglie Dio la nostra parte. Perché fa parte di quella quantità enorme di cose che non scegliamo nella vita e che accogliamo nella vita. Si tratta di accogliere dove ci metterà Dio. Come gli daremo gloria? Come toccheremo la sua vita? Mai e poi mai come pensiamo noi. Ed ecco, gli altri si indignano che Giacomo e Giovanni hanno chiesto questo. Ma che cos'è la loro indignazione? È rivalità? È il pensiero che c'è stato un sotterfugio in corso? Questi hanno tentato di accattivarsi un posto tramite non si sa quale strategia manipolatrice. Ed ecco che ancora Gesù deve andare ancora avanti e salvare anche tutto questo. E fare che cosa? I dominatori e i governanti delle nazioni spadroneggiano e opprimono le nazioni. Ma voi pure volete diventare grandi? Voi volete essere i primi? Bene, si può fare. Questo desiderio di grandezza, questo desiderio di gloria non è cattivo, ma vi mostro qual è la gloria autentica. Chi tra voi vuole essere il primo si mette al servizio. Chi vuole diventare grande si faccia schiavo degli altri. Cioè impari che è l'amore che ti dà la gloria. È il servizio, è il trascendersi che ci fa grandi. Essere liberi dal proprio ego che ci fa meravigliosi. Questo è ciò che ci porta alla pienezza della comunione con Cristo. Questo è ciò che resta intorno a noi di buono e di bello quando noi viviamo con gli altri. Quel che ricorderemo non è stata la capacità di qualcuno di imporsi, ma la capacità di qualcuno di amarci, di volerci bene, di starci accanto nel modo giusto, di dire e fare ciò che ci serviva. Questa è la gloria. Questa gloria sta nascosta dentro le nostre ricerche disordinate di gloria. Lasciamoci azzerare su questa autentica gloria dal Vangelo di questa domenica.